Ah sì, questo è il tentativo precedente, sì tua Siamo alla resa dei conti, io non capisco questi dei concorsi come pretendono che uno riesca a superare una cosa del genere con tutta la pressione, la cacciara, la gente che parla e in pochi minuti e magari senza scrivere, senza macchinetta Io cerco di darti un'idea di come ci sono arrivato io a sto problema Non so, spero che almeno la macchinetta peffè conti va ad anno perché sennò non so proprio come riuscite a fare Anzi fammela tirare fuori se no poi ci metto un'ora a usarla Comunque due ciclisti, dopo essere passati Corosso, essere andati contro mano su Viale Marconi e essere andati sul marciapiede per 6 km decidono di fare una gara su una pista circolare lunga 500 metri partendo insieme dei nastri di partenza e con l'obbligo di eseguire 10 giri Sapendo che il primo viaggio ha la velocità di 45 km all'ora, per esempio un razzo e il secondo va alla velocità di 20 km all'ora, mi nonno Quando il primo ciclista doppierà il secondo per la terza volta? Allora, doppiare per la terza volta, come concetto ci arriviamo, è abbastanza, mi sembra che il concetto mente sia abbastanza facile Vuol dire, siccome un giro di questa pista circolare sono 500 metri doppiarlo per la terza volta vuol dire che il ciclista 2 ha fatto 1500 metri più del ciclista 1 mi sembra abbastanza logico quindi la distanza che compie il ciclista veloce, ciclista 1, meno la distanza che compie il ciclista lento, che è il ciclista 2, mi nonno è uguale a 1500 metri Noi le velocità però ce le abbiamo in km all'ora per questo 1500 metri ci fa molto più comodo in km così non dobbiamo cambiare unità di misura e tutto torna quindi a 1,5 km ok? Allora cos'è la distanza? mo' entriamo nel magico regno della fisica oltre che della matematica vabbè, sono cose che stiamo ancora nell'ambito del facile la distanza è la velocità moltiplicata per il tempo che stai a core quindi se vai 20 km all'ora in un'ora fai 20 km mei coglioni al cazzo in mezz'ora fai 10 km in due ore fai 40 km la distanza è uguale alla velocità per il tempo easy peasy lemon squeezy per cui la distanza noi vogliamo capire che cosa? noi vogliamo capire il tempo perché con il tempo poi capiamo siccome sappiamo la velocità poi capiamo di nuovo un'altra distanza che è quella dei giri che ci ha messo lui a doppiare per cui il ciclista 1 va a 45 km all'ora km all'ora il ciclista 2 va a 20 km all'ora ok? quindi la differenza di velocità tra 45 e 20 sono 25 km all'ora quindi la nostra differenza in matematica la differenza si mette come delta in questo caso d di distanza però veramente non è stata rincoglione con queste stronzate quindi la differenza di velocità sono 25 km all'ora in quanto tempo a 25 km all'ora tu fai un chilometro e mezzo che sono i nostri tre giri per cui 25 km all'ora per il nostro tempo è uguale a 1,5 km quindi il nostro tempo queste sono le equazioni di prima questo te lo butto direttamente in del posto te lo butto direttamente da sotto spero che grazie alla lezione di prima hai capito perché per cui il tempo è uguale a 1,5 km diviso 25 km all'ora magicamente si semplificano pure le unità di misura e tutto torna perché che cosa ti rimane? ti rimane le ore che però stanno al denominatore qua e quindi tutto il risultato poi sarà in ore 1,5 diviso 25 è uguale a tocca usare la macchinetta però te lo dico io dovrebbe essere 0,06 ore andiamo a fare i conti se non sbagliasse 1,5 diviso 25 è uguale a 0,06 ore ok? adesso quanti giri fa il ciclista 1 in 0,06 ore? allora se lui va a 45 km all'ora per 0,06 ore è uguale arriviamo alla macchinetta per 45 qua tac 2,7 km ok? il nostro giro è 500 metri mezzo chilometro quindi quanti giri fa questo per 2 uguale 5,4 giri 2,7 2,7 km il giro è mezzo chilometro per cui 5,4 giri adesso ti verrebbe da rispondere durante il tuo quinto giro e qui ti incula e qui che ti inculano loro non vedono l'ora che tu rispondi durante il quinto giro perché ti dici vedo 5,4 è durante il quinto giro e no e no questo è lo stesso motivo per cui quando tu entri nel 32esimo compi 32 anni 32esimo compleanno entri nel tuo 33esimo anno di età perché tu non consideri lo 0 se parte da fermi cioè da 0 a 1 questo è il primo giro non te sto a far vedere questo è il primo giro non è che dopo superato 1 diventa il primo giro no capito? cioè tu parti da fermo parti a 0 poi ci sta il primo giro poi ci sta il secondo giro poi ci sta il terzo giro poi ci sta il quarto giro tu qua sei già durante il primo giro qui 5 6 7 questo è il primo giro tra 0 e 1 tra 1 e 2 è il secondo giro tra 2 e 3 è il terzo giro tra 3 e 4 è il quarto giro tra 4 e 5 è il quinto giro tra 5 e 6 è il sesto giro è qui che ti aspettano capito? perché te dopo che hai fatto tutta sta supercazzola velocità spazio tempo sei tornato indietro nel tempo hai calcolato la formula per per vincere tutto calcio poi alla fine ti incula ti incula su una stronzata perché ti dici 5,4 è easy vabbè quinto giro no ti ha inculato è il sesto giro è il sesto giro si parte sempre da zero quando si parla del diciannovesimo secolo non si parla del 1900 si parla del 1800 smart noi siamo nel ventunesimo secolo è appena passato il 2000 capito? è così che funziona è così che ti inculano sti bastardi spero spero che se siamo capiti bella